Si svolgerà sabato 25 maggio a partire dalle ore 18 in piazza Lucia, Santa Maria di Castellabate, la prima edizione del Castellabate Film Festival. Il progetto è stato ideato e promosso dall'assessorato alla pubblica istruzione del comune di Castellabate in collaborazione con l'istituto comprensivo Castellabate e Film Studio di Agropoli. La mission è quella di lanciare un messaggio universale attraverso spot e cortometraggi realizzati dai bambini delle scuole dell'infanzia e dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Il festival ha coinvolto tutti gli alunni dell'istituto comprensivo Castellabate ed è composto di numero 4 sezioni. La prima sezione comprende la scuola dell'infanzia con la realizzazione di numero 6 spots, tema l'amicizia. Sezione 2 scuola primaria con la realizzazione di numero 6 spots, tema l'ambiente. Sezione numero 3 scuola primaria con la realizzazione di numero 4 corti, tema l'inclusione. Sezione numero 4 scuola secondaria con la realizzazione di numero 3 corti, tema il web come risorsa. Le opere realizzate dai ragazzi saranno proiettate in pubblico il prossimo sabato 25 maggio 2019 e concorreranno per vincere il trofeo Castellabate. Ad intrattenere ai presenti anche tanta animazione firmata NAPI Animazione che farà da cornice all'iniziativa dedicata ai bambini. Al miglior film andrà il trofeo Castellabate, al miglior attore e attrice andrà il trofeo Flora Guida in ogni sezione. I alunni che hanno partecipato al progetto sono stati diretti dal regista Gianni Petrizzo. La fotografia e il montaggio delle opere è stato curato da Andre Giaccio. A coordinare e curare l'iniziativa l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Castellabate Elisabetta Martuscelli, ha collaborato la dirigente scolastica Gina Moriello e tutti i responsabili di plesso e i docenti dell'istituto comprensivo Castellabate. Un'iniziativa che ha visto coinvolto l'istituto comprensivo di Castellabate, saranno assegnati attraverso degli spot dei cortometaggi, vari premi e curato dall'assessorato alla pubblica istruzione del comune di Castellabate, ideato in collaborazione con Cilento Channel e questo sarà il 25, sabato 25, in Piazza Lucia. Ancora una volta i nostri studenti, i nostri bambini, i nostri giovani saranno protagonisti qui a Castellabate.